L'ospedale dell'Aquila rischia il collasso. Il licenziamento dei precari comporterebbe delle gravi conseguenze, sia a livello di disoccupazione ma soprattutto a livello dei servizi. Questo è il problema di maggior risonanza. I reparti ospedalieri dovranno subire un accorpamento, con conseguente calo inevitabile delle prestazioni da garantire al cittadino, mentre alcuni andranno persino incontro alla chiusura. Si profila una situazione simile, se non peggiore, di quella che si è già vissuta nell'immediato post terremoto. Il sindaco Massimo Cialente è intervenuto a tal proposito stamane in conferenza stampa, insieme a De Matteis, vicepresidente del Consiglio regionale, due rappresentanti di forze politiche avverse ma uniti nel tentativo di salvare l'ospedale. Ieri nell'incontro è emerso che chiuderà più di metà della rianimazione come post letto per mantenere il pronto soccorso e così via. Credo sia una cosa inaccettabile e credo sia stata fatta insieme, visto la situazione politica complessiva, in cui il Comune fa la foglia di fico al Governo e soprattutto alla struttura commissariale. Cialente, che vede una volontà politica nell'indebonimento dell'ospedale, afferma che se si fosse sollevata con più largo anticipo questa problematica sarebbe stata certamente inserita nel decreto mille proroghe, completamente approvato nella parte riguardante l'Abruzzo e che avrebbe portato ad una soluzione, per lo meno temporanea, della questione precari, con il conseguente salvataggio del nostro nosocomio. De Mattei si afferma la necessità di una legge ad hoc che riguardi l'ospedale dell'Aquila e non l'intera ASL. Non si tratta di campanilismo, afferma, ma di una possibilità riguardante unicamente la nostra città, in quanto già in emergenza. Infine Cialente invita tutti i cittadini a protestare per la salvaguardia del nostro diritto alla salute, che allo stato attuale rappresenta uno dei maggiori problemi della popolazione aquilana. Credo che sia arrivato il momento che gli aquilani si mobitino e io sto cercando, se non arriva la soluzione, entro domani, dopo domani, sulla vicenda dell'ospedale, credo che gli aquilani, anziché tagliare l'erba, la scaletta di San Bernardino, di Piazzetta Bricionella, devono cominciare a alzare più la voce.